Quando l'ho visto l'ultima volta? Sono... passati tanti anni. Io non sono lui e lui non è me, chiaro? Due fratelli. Certo che sei tutto uguale a lui. Credo che gemelli significhi proprio questa. Bill vive per la cultura. Oh no, 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 no! Si fermi, sei signorina Green, stai! No! Signorina Green, stai! Brady per l'agricoltura. Pensavi che spacciavamo bustine da due soldi. Vuoi provarla? No, io mi guadagno da vivere col cervello, quindi vorrei mantenerlo lucido. Stessa faccia. Io non sono chi pensare. Ah, non lo sei? Stessa famiglia. Hai un'intelligenza superiore a quella di tuo fratello e l'hai sprecata. Stessi guai. O ti decidi a espandere l'attività o ti faremo chiudere del tutto. Non sono interessato. E il tuo debito come lo pagherai? Chi mi restituirà tutti quei soldi? Ti chiedo solo di scambiarti con me. E non pensarci nemmeno. Controlla quella borsa. E se dentro non ci sono i miei soldi, uccidi quei figli di puttana. Insieme stanno per vivere un'avventura stupefacente. Solo un piccolo assaggino. Eagle Pictures è lieta di presentare i candidati all'Oscar Edward Norton e Edward Norton. I premi Oscar Susan Sarandon e Richard Dreyfus. Infilzami figlio di puttana! E Carey Russell in una commedia uguale a nessun'altra. Fratelli in erba. Dal 17 settembre al cinema.